Questo è per noi. Noi che usciamo dalla nostra comfort zone, ma lo facciamo con ogni comfort. Noi che ci muoviamo avanti per non lasciare indietro nessuno. Noi che non seguiamo le mappe, ma sappiamo esattamente dove stiamo andando. Noi che prendiamo tutto sul serio per viaggiare senza pensieri, perché solo così ci sentiamo liberi. Liberi di andare ovunque, sicuri di arrivarci. Scegli la polizza auto ITAS, sei libero di pagarla anche a rate. Per te in omaggio l'abbonamento a Telepass Base. Chiedi all'agenzia ITAS assicurazioni più vicina a te o vai su gruppoitas.it. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.